L'università è il luogo in cui si pare a guardare oltre sull'orizzonte, l'università è la casa dei disegnatori di futuro. I progetti che vi abbiamo presentato e che continueremo a presentarvi nelle prossime settimane sono porte che si aprono sul vostro e sul nostro domani. Anche voi potete essere parte di questi progetti e delle nostre ricerche, anche voi potete aiutarci a disegnare il futuro. Noi contiamo su di voi. Grazie.